facciamo il copy e incolla di immobilia come si fa, vado sulla mia pagina tanto per dimostrare chi sono, allora questo qua è un video che ho scaricato e mi piace bene, questo l'avete visto, adesso voi le operazioni sotto qua, dove è scritto pierson soffirli, più o meno è questa, allora tasto sinistro oppure tasto destro adesso non vedete, si apre la finestra, è scritto sotto copie e indirizzo con copie indirizzo, link, cliccate sopra, tasto sinistro, l'abbiamo copiato, andiamo su google tasto destro, qua su google, se non vedete l'operazione non importa, seguite le mie parole tasto destro, si apro e incolla, tasto sinistro, incollate, andiamo a vedere ok, adesso, è meglio, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, si Bene, chiudo. Un saluto a tutti. Interrompo la rivoluzione, aspetta un attimo. E mi presento, eccolo qua. Ok, chiudo.